devo dire la verità al decollo non mi vengono i brividi poi ti senti proprio non so libero non pensi magari alla meta che stai raggiungendo in quel momento proprio ti senti c'è una sensazione particolare come se fosse sempre la prima volta proprio il primo marzo 2001 è cominciata la mia carriera in aerodromity sì il primo giorno di lavoro me lo ricordo sono arrivato e già subito sbagliato parcheggio quindi subito un po coccolato diciamo nel mio nel mio reparto ho fatto conoscenza con i miei colleghi poi pian piano abbiamo veramente stretto un'amicizia insomma oltre che rapporto di tra colleghi se io sono nel magazzino parti di ricambio le cose più piccole sono delle rondelle fino ai motori beh come lunghezza come questo divano molti miei amici continuano a pensare che io sono quello che carica i bagagli invece no diamo le parti di ricambio questa azienda è come un po una famiglia è fatta da persone capaci perché sennò una piccola azienda regionale che dura appunto 30 anni insomma è difficile da trovare credo